E' una partita difficile, sapevamo che affrontavamo una squadra che aveva delle caratteristiche ben precise, avevano anche la possibilità di cambiare diversi moduli e poi durante la partita questo si è verificato, sicuramente noi non eravamo brillantissimi e questo sicuramente ha agevolato loro nell'andare anche in vantaggio, ma poi credo che è venuta veramente fuori la forza di questa squadra, la volontà, la voglia di ottenere comunque un risultato importante. E' un po' quello che ci mancava, dimostrare anche di saper fare delle partite così, di sofferenza, sappiamo che questo campionato va affrontato anche con delle partite del genere, quindi da una parte sono anche contento di averla fatta insieme alla squadra, oggi una partita di un certo calibro sia agonistico ma di cuore, quindi era un po' quello che ci aveva chiesto il mister e credo che siano venuti fuori, ecco veramente le qualità di questo gruppo.